Questa donna amava un uomo. Un uomo che divenne una minaccia per l'umanità. Scienziati di ogni paese cercarono di nascondere al mondo la sua esistenza. Ma che è successo? Non potete dirmelo? Glenn Manning sta crescendo di circa tre metri al giorno. Al momento è alto cinque metri e mezzo. Domani sarà alto otto metri. Dopodomani dieci, forse dodici. E il giorno dopo ancora? Ma dovete fare qualcosa. Devo uccidere qualcuno. Gli scienziati studiano giorno e notte, tentando ogni rimedio che la scienza medica può escogitare, cercando in vano di arrestare la crescita di questo mostro umano, sempre più gigantesco, capo stipite di una genia che sta per invadere la Terra. Bisogna ad ogni costo fargli questa iniezione. Pronto? Attenti, allontanatevi! Siamo qui per aiutarti a guarire! Manning è sparito. Non riusciamo più a trovarlo. La polizia raccomanda ai cittadini di restare in casa. Non uscite di casa. La straordinaria vicenda di un uomo che stava per schiacciare l'umanità. Questa è la terribile avventura di un mostro in un mondo che sta per impazzire di paura. Grazie a tutti! cả! Grazie a tutti!